Il Consiglio approva il bilancio regionale 2023-2025. La legge di stabilità della Campania per il 2023 è stata approvata a maggioranza con 33 voti a favore dal Consiglio regionale della Campania. La legge è composta da 65 articoli, previsto un fondo regionale per il sostegno dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro, c'è poi il voucher per l'accesso gratuito alle attività sportive dei minori dai 6 ai 15 anni, 2 milioni e mezzo di euro per ciascun anno finanziario. E ancora, il Fondo Sociale regionale per la tutela dei diritti sociali di cittadinanza. Con 200 mila euro per ogni anno viene finanziato invece il Fondo Durante Noi, Dopo Di Noi, per le persone con disabilità che restano prive del supporto familiare. Mezzo milione per il Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza di genere e poi 5 milioni di euro di contributo straordinario al Teatro San Carlo di Napoli e 2 milioni al Verdi di Salerno. La legge prevede anche 2 milioni per il Fondo per la promozione culturale e 15 milioni per lo spettacolo. 5 milioni invece saranno destinati al Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva. Ascoltiamo Francesco Picarone, presidente della Commissione Bilancio, Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale, Gennaro Saiello, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e Severino Nappi, capo gruppo regionale della Lega. Noi abbiamo fatto molti interventi di investimento anticiclici perché sappiamo che la crescita che quest'anno si registra, qualcuno pensa anche al 4% quest'anno, l'anno prossimo si parla quantomeno di non crescita se non addirittura di recessione, abbiamo messo in campo molti interventi sulla programmazione unitaria, sul PNRR, anche sul bilancio e sui fondi complementari, abbiamo messo molti interventi in campo di investimento che speriamo possano contrastare questa tendenza economica che non è espansiva. Si può sempre fare di più soprattutto dinanzi a uno scenario complesso come quello che stiamo vivendo, magari appunto concentrando una serie di fondi che sono stati, diciamo frammentati in una serie di interventi verso misure più sostanziali, però ci sono interventi importanti in questa legge di bilancio, soprattutto sul tema delle politiche sociali e della cultura e questo lo salutiamo con favore. Il problema grosso riguarda le graduatorie attualmente attive in campagna, per esempio per gli OSS, per gli infermieri e per i medici, avevamo chiesto di incentivare un principio che è già sancito da tante sentenze di giudici, che è quello di scorrere prima le graduatorie per poi bandire altri concorsi e non farlo durante l'esistenza ancora di quegli elenchi. La Lega in questa occasione ha lanciato una prospettiva seria, siamo la regione che paga più tasse alla regione, i cittadini campani sono quelli che pagano il maggior numero di tasse, ecco perché abbiamo chiesto di cambiare l'iniqua disposizione dell'anno scorso che per far fronte alle mance elettorali del 2020 aveva aggravato i campani di un momento inaccettabile. Ora questo non è accaduto come al tempo stesso per sostenere la città metropolitana e i comuni che sono pesantemente incondizionati da un carico fiscale inaccettabile, abbiamo chiesto un intervento della regione.